in dei posti in cui abbiano pochissime persone se conoscono tutti eccetera è molto più semplice metterla in opera piuttosto che immaginarcela nei metropoli nostri cioè noi ti avevamo proposto la vita smeralda e tu sei andato a fare questa sono scelte, ti apprezzo veramente la... due settimane stavi lì al sottovento, sopravento e la stessa cosa, è una comunità che si auto-organizza anche l'azione fiscale più totale un podcast morbidissimo buongiorno e benvenuti alla seconda puntata di Kashmir un podcast morbidissimo bravo che hai rimesso la chiesa al centro del villaggio qualcuno si era lamentato e noi però servi del nostro pubblico servi dei commenti noi assolutamente noi che leggiamo tutti i commenti li lasciamo correre tutti li lasciamo correre noi come si fa? come è giusto fare? creativi, come stai? tutto bene? bene bene bene, sto bene sto bene, giornate uggiose ma siamo felici di essere qui ragazzi, grazie mille per... insomma ci avete seguito in tanti la prima puntata grazie anche a tutti quelli che hanno preso i biglietti per lo show di Milano che faremo al Franco Parenti il 30 novembre 30 novembre vi diciamo già che ci sarà uno show il 13 dicembre anche a Roma detta la Milano di Pietra detta la capitale del sud esatto e dai non vediamo l'ora di farlo siamo felici di fare quest'anno degli show quindi adesso usciranno i biglietti e tutto intanto salutiamo Tahir, come stai? ciao ragazzi, tutto bene un po' meglio ieri, peggio i domani benissimo bello, bellissimo questo è un manuale di quelli how to live the day live today hai un pantalone quasi damascato ma è bagnato perché? è bagnato? è un jeans khaki no, è un beige con sopra della vernice beige più chiara sembrano le tende di casa di mia zia si, campagna a Fuji dai quando volete vi insegno a vestire vabbè non potete vederlo ma Tahir oggi è palettato un cono frutti di bosco e crema beige e appunto questo è bordeaux, questo è beige e quindi frutti di bosco, mirtilli e crema come stai Carmine? gustosissimo molto bene, oggi ho girato il camice dal lato invernale quindi ha tutte le macchie marroni quello che non lavi mai quello che non lavi mai ed è muschiato giustamente però non sono riuscito a venire in monopattino perché sono cambiato le regole ecco ma parliamo un attimo di questo dramma che hai vissuto, abbiamo capito perché da oggi anche i monopattini cioè da oggi, da un po' i monopattini avranno bisogno di una sorta di chiamiamola targa dico male? sì ma sai quella si può anche applicare è più, comunque ancora non è in vigore la targa è più l'aggiunta del doppio freno delle frecce anteriori e posteriori di un catarifrangente e tante piccole cose informazioni che comunque lui avrà preso da una live di TikTok certo sì, non credo dal sito del ministero dei trasporti ma tu applica lì a questo monopattino scusa sì adesso vedo intanto penso più alle fette perché tanto con sta pioggia non mi sarebbe potrebbero per chi ci ascolta fuori da Roma andare a piedi però i nostri ascoltatori sempre sul carso noi ne abbiamo nel cuore dopo le piovre le fette anche chiamate fettuccine anche andare a fette ma fettuccine che è la deriva Gen Z vuol dire andare a piedi a fettuccine andare a fettuccine ah sì a fettuccine ti immagini ti scrivo oh ci vediamo domani tu come vieni a fettuccine a fettuccine please e un saluto anche alle signore cashmere torniamo al vecchio nome torniamo alla vecchia nomenclatura alle cashmere come state ciao ragazzi c'è Alice che sta cercando il suo microfono sotto il sedere io ne abbiamo due e volevo dire che a proposito di monopattini che noi l'altra volta abbiamo visto Rocco Casalino che cercava di sbloccarne uno bellissima scena eravamo fermi a piazza a piazzale flaminio fermi a semaforo in motorino vediamo e lei da dietro mi fa ma quello sembra dico no non sembra quello è ed era Rocco Casalino che provava a sbloccare un monopattino guardate come dire lo so che avete visto il fratello uno però non l'ha sbloccato bene quindi ha iniziato a shakerarlo ha fatto quel suono tipo che lo stai rubando e se avessi avuto la prontezza di un cinquantenne romano gli avrei detto vedi Moncio l'autoblumo ma nessuno gli ha detto guarda non è più l'epoca di uno vale uno puoi prendere l'autista l'autoblù caro Rocco prendi un bel tassi caro Rocco con tutti i soldi delle serate di quando facevi il grande fratello in discoteca i soldi dati nelle scatole di scarpe quante scatole di scarpe avranno il controsoffitto Rocco Casalino non guarda mi guarda sei sicuro di volerlo dire Rocco Casalino scherzo scherzo possiamo infatti dire questa cosa che se c'è un bip è per evitare una querezza a quanto l'are le persone non l'hanno capito si ma appunto facciamo finta che non molte persone esatto no no è Tahir che ci vuole portare su quel crinale come state Alice ha preso il treno dei businessmen per arrivare qua stamattina molto presto il Roma-Milano delle 6 e 40 Milano-Roma Milano-Roma delle 7 eh certo che parte molto carico di gente del nord che cazzo devo andare giù a Roma quella città di Porci il trenitalia brava brava e senti di che si parlava qualche battuta che hai sentito sul treno c'è qualcosa che ti ha colpito allora io ho sentito questo signore questo businessman pieno di braccialetti sul polso tipo che si capiva che aveva fatto una bella estate che ha risposto al telefono e ha detto pronti e questa cosa mi ha fatto sciogliere il cuore sono proprio nella classe business è stato molto carino io sai che il braccialetto lo metto perché per ogni ragazza che pago mi piace ricordarlo così quando vado al commercialista butto giù tutto e lui sai anche io le scarico tra l'altro le ragazze i ragazzi c'ho il collare c'ho lo snake è arrivato un collega e lui ha detto eh never stop working veramente lo ha detto veramente just a milanese boy ma ti offrono il cornettino su Trenitalia? sì certo ma Italia non è solo cosa di Italia no Italo ti offre per chi dovessi capitarvi no al pomeriggio tardi la no la spumantino l'aperitivo no come cazzo si chiama la ragostina con i friarelli e la ricotta ma che lo dici? ma salato salato ma sul serio veramente quello è posso dirlo mind popping e a proposito di mind popping e a proposito di Pringles a proposito di mind popping perché c'è un tubo Pringles rosso rosso come il Natale come il Natale come il Natale come non lo so le mie analisi del sangue non so ma sta dicendo una cosa indicibile allora amici ricorderete la bellezza dell'aperitpringles estivo ci siamo divertiti le spiagge italiane è stata una cosa straordinaria ma cosa c'è di più bello dell'estate italiana l'inverno l'inverno italiano non è vero però però comunque non vi deluderemo perché faremo un grande spettacolo aperitpringles snow e lo gireremo in un luogo a noi caro un luogo caro un po' a tutti gli italiani un luogo dell'anima certo un luogo stupendo quel posto è cortina da un pezzo e io godo di questa cosa che bello che facciamo una puntata di cashmere a cortina ma non saremo da soli a fare la puntata di cashmere a cortina perché è stato lanciato questo concorso per la storia più mind popping e perdonatemi se torniamo cioè mind popping nel senso più stramba più strana più mattacchiona legata al Natale verranno scelti due vincitori quindi quattro persone che verranno a vedere se vi va la puntata vi diciamo già che molto in vantaggio c'è Daniele Santanchè che ama il podcast e ha dei Natali ci ascolta e ci ha raccontato delle storie incredibili ognuno di noi ha delle storie terrificanti sul Natale ciascuno di noi le ha potete raccontarle sulla pagina Instagram di Pringles andate sotto al post dedicato a questo concorso e raccontateci la vostra storia più mattacchiona tu hai avuto problemi a Natale nella tua vita Luca Ravetta ma no a Natale guarda quest'anno e lo dico forte e chiaro perché so che non mi sta ascoltando la zia Pussi che ha il suo soprannome mia zia il soprannome è Pussi non vuole più fare la cena di Natale perché ha avuto due nipotini e ha perso completamente la ragione e vuole proporci di farlo il giorno dopo e noi abbiamo detto non ti riconosciamo più come zia se ti azzardi a voler più bene a due neonati che a me e mio fratello che abbiamo 35 31 anni presa benissimo e questo potrebbe essere più che mind popping l'ultimo Natale non scherzo bello posso venire anch'io a Cortina Carmelo ovviamente ci sarai anche tu sarai il sindaco di Cortina Carmelo ti è mai capitata una cosa terribile a Natale un Natale che ricordi litigi in famiglia situazioni disastrose panettoni che saltano ricordo di aver vomitato il panettone da piccolo prima di Natale però ti hai riportato avanti già il 23 già il 23 Pasqua dalle notte a mio zio è stato regalato un maglione a trecce lui ha veramente perso la ragione per questa cosa con mia nonna ma veramente un'aggressione era come se ma una cosa impressionante non litigato per un'ora e mezza però mio zio aveva 50 anni un po' particolare una situazione molto bella perché si sentiva attaccato come persona che portava i maglioni a trecce cioè qual era il a me non sono mai piaciuti i maglioni a trecce mamma perché me li stai regalando pensa quanta emotività c'era in quello scontro tantissimo nascosta tantissimo bellissimo però è stato bello ognuno di noi ha delle storie terrificanti raccontatecele sulla pagina di Pringles e due fortunati di voi vinceranno il concorso potranno portare un'altra persona quindi ci vedremo in una straordinaria baita cortinese sabato 17 dicembre si sta avvicinando il Natale che è un po' una grande deadline un grande momento in cui si interrompe il lavoro perché ci sono motivi importantissimi la nascita del bambinello ad esempio o questo buco mentale italiano the chosen one esatto queste due settimane che dovrebbero essere due diventa un mese in cui non si può più di colesterolo non si parla ne riparliamo dopo Natale però inizia ottobre questa cosa ne riparliamo dopo Natale Natale grande momento di tensione di ansia di grandi consegne perché o me lo mandi entro il 23-22 oppure del tuo lavoro che stavamo facendo non se ne parla più quante volte hai sentito dire questa cosa sempre quante volte c'era necessità di inviarlo con questa urgenza mai nessuna esatto nessuna e parliamo oggi di un grandissimo tema che sono le consegne the delivery e soprattutto l'ansia che genera questa cosa esatto tu che però io ti conosco da anni sei una persona piuttosto precisa in generale se devi fare una cosa la fai e la fai entro non sei a livelli di Alice che sta fuori completamente di testa cioè consegna due giorni prima due giorni prima ma l'educazione Alice io godo essere in anticipo senti ma tu all'università eri una di quelle che finiva gli esami già al primo appello no 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 sono sempre concesso anche la sessione di settembre però mi piace stupire gli altri facendo vedere oh addirittura sei persino in anticipo mi piace questa cosa ma l'educazione in Italia non si fa non è gradito fossimo nel mondo anglosassone quasi quasi ma qui non è è come arrivare prima ad un appuntamento secondo me pure quello è tu sei una malata di mente ritardataria è una cosa tu mi stai accusando di questo certo io pensavo di essere la persona più ritardataria del mondo poi mi sono sposato con lei ho fatto oggi il mio primo grave grave ritardo a Kashmir dopo che per due anni ho visto i Ferrari arrivare tipo a volte hanno segnato un altro giorno ma scherziamo però io ho l'ansia del ritardo tantissimo mi dà molto fastidio però sulle consegne io sono una delle peggiori persone che abbia mai conosciuto nel consegnare cioè se la consegna è oggi o domani io per una settimana riesco a trovare il modo impapocchiarla grazie a Dio la stand up lì non puoi non deliberare lì c'è il palco devi farlo mamma mia che bella cosa quella è la cosa più che forse a noi ci salva ma io molto spesso mi sono trovato in situazioni in cui veramente non avevo scritto nulla un'ora prima di sedere sul palco però a un certo punto sul palco ci vai qualcosa devi dire quindi forse in quell'ora riesci a concentrare ti concentri e ti rifuori qualcosa ma invece ti è capitato tu avendo fatto anche l'università dici il 22 sta arrivando l'ultimo esame mancano tre giorni avevo due mesi per studiare allora come gestisci beh la mente è una strana macchina perché ti sembra che negli ultimi tre giorni prima di esame segnatevi queste parole stupende la mente è una strana macchina è una strana macchina che peraltro è il titolo del mio album del 71 12 pezzi un LP straordinario con il bassista di Eugenio Finardi ho lavorato ah Francesco è morto è morto era defunto poi no allora in quei tre giorni prima dell'esame hai una concentrazione che non hai in nessun altro momento dell'anno e questo è frequente però in tanti lavori è come se uno si riesca si riuscisse ad ingannare per tutto il tempo quando poi hai la consegna hai una concentrazione molto maggiore però io ricordo il senso di morte che tu avvertivi quando l'esame si stava avvicinando e tu pensavi ok ho iniziato a studiarlo a settembre avrei avuto tre mesi per farlo poi è passato ottobre ne avevo due poi un mese a novembre poi adesso ho due settimane ti ritrovi a una settimana che non hai fatto nulla però poi ci vai io ci sono sempre andato io sono sempre andato agli esami anche se non sapevo nulla sì sempre cioè riuscivi veramente pazzo kamikaze sì sì no bruttissimi quarti d'ora cioè con gente mi dice ma lei che cazzo vuole come si permette penso che per evitare questa situazione non ho fatto proprio l'università hai fatto benissimo per sicurezza hai fatto benissimo mi fa venire l'angoscia vabbè l'angoscia è connotato da tanti io ho avuto due momenti di attacchi d'ansia serie nella vita uno all'università una volta in cui dovevo fare tipo un commerciale procedura civile un altro insieme in un mese e un'altra volta poco prima del lockdown del 2020 che dovevo fare tre lavori difficilissimi insieme un soggetto e del programma per replay il libro ho pensato non ce la farò mai avrei tanto bisogno di un periodo in cui sto chiuso in casa e poi pensate un po' io l'ho fatto quest'anno per la prima volta penso da anni dovevo andare in un posto per fare un un TED talk questa è la verità e mi sono reso no mi sono reso conto che non ce la facevo e ho detto ragazzi sono stato sincero sono sceso dal treno ragazzi stasera non ci sarò prima ho letto il contratto per vedere se incappavo in qualche penale e poi ho detto non posso e pensare che oggi su youtube ci poteva essere un quando parliamo di risata ma stiamo parlando di un meccanismo un meccanismo avulso dal da quello che noi pensiamo è un modo per leggere il mondo e capire le persone molto meglio ora voglio farvi un piccolo esempio diapositiva di merda questo è il nostro cervello quando è spento questo è il vostro cervello quando ascolta un mio monologo di stand up comedy la mente la mente è una macchina stupenda però no invece è una cosa che secondo me è molto a parte mi è tornato in mente agli albori di facebook c'erano quelle cose divertenti che continuavi a scrollare non a scrollare a destra non a scrollare quindi quelle faccette simpatiche quella è Repubblica con la colonna a destra quelle faccette simpatiche che ricreavano piccole situazioni della vita tipo le mie cuffiette col filo quando le metto in tasca ed escono tutte raggomitolate io facevo che ridere ma non me la ricordo erano i meme agli albori diciamo e perché erano tutti sulla destra perché quando aprivi scrollare a destra non all'ingiù 12 foto da ridere era come se ti segnalasse delle pagine che esistevano esatto ok tu aprivi i consigliati di facebook i consigliati di facebook esatto e c'erano queste cose c'era uno che diceva come funziona la mente di un creativo cioè hai la deadline qua tutto il tempo buttato fino agli ultimi due giorni tipo panico e poi consegna ultimi due giorni e lo leggevo e dicevo come è giusta questa cosa quanto mi immedesimo a me non capitavano queste situazioni sai perché lo facevo perché ero su facebook a vedere queste stronzate e non stavo lavorando per dire che una delle più grandi fonti di distrazione e scarico di tensione è internet internet sì cioè tu quale cronologia segui quando dovresti scrivere questa cosa e parti allora io parto tutte le volte che devo lavorare apro repubblica.it e la mia mente mi giustifica perché penso però mi sto informando cioè comunque questo è un momento di informazione quindi inizio a leggere cose della prima pagina così poi entri in quei mondi tipo clamorosa gaff di mille d'abbraccio e già lì è una brutta china dopodiché si passa a Dago Spia e Dago Spia le malevolge perché da lì a cioè prima c'era notizia di gossipetto così poi dopodiché si entra in un universo di perdita di tempo clamorosa dopodiché passo a youtube e lì inizia la cosa che mi porta veramente lontano da quello che devo fare perché io mi sono convinto di saper suonare la batteria quindi inizio a vedere dei tutorial infatti di americani che spiegano hai capito? tu lo vedi su ogni tanto Kashmir io ce l'ho nella cronologia del canale Kashmir lezione batteria come fare bravo mi passa interi pomeriggi a vedere video di batteristi pure di chitarra hai visti diversi mi sa certo di chitarra come no esatto ed è tutto ok guys today we're gonna see how to play Dump With by Blink 182 ok Travis Berker is a phenomenal drummer we're gonna see there's a lot of things going on here chiunque in questa situazione con la moglie che dice vado a fare la spesa sarebbe andato su Pornhub ed invece apre drum no no io faccio quello faccio quello what's made again drum lesson dramio quello poi eseguo dramio non ti sei mai abbonato tipo a qualche corso si sei abbonato sono abbonato agli ultimate guitars c'ho l'account pro per cui posso vedere c'è la tab c'è la tab che ti permette di vedere tutti gli strumenti uno separato dall'altro e quindi riesci a capire bene qual è la melodia quali sono i riff è una cosa seria no no mega seria non immagino no quelle no quelle no però le cose mi faccio sentite le cose finger picking i pezzi difficili con la tab fatta bene seguo Paul Davids l'olandese che saluto non suonerò mai sono i bulli delle tue medie che gli stanno vibrando le orecchie perché non l'abbiamo menato ai tempi oggi sono qui a parlare nel cashmere podcast quindi evidentemente avevo ragione io basta non sono offeso per quelle botte che ho ricevuto io non la metto tanto come non lavori come non lavori non la metto tanto su internet che quello lo do per default le 6-7 ore a guardare video principalmente di cibo il rumore che mi rilassa di più al mondo è sentire di qualcosa che sta sulla padella se è grasso di maiale meglio e no camminando io esco e mi faccio un giro dicendo sento due canzoni fumo un caffè si bevo un caffè e così qualcuno sotto può scrivere se ne fumate anche di diversi e inizio a camminare e a vagare per Roma che è una delle cose che amo di più inizio a darmi degli spot da raggiungere dai fino a lì poi fino a là poi fino a lì non mi va poi sulla base di un umore tutto interno della mia testa vado in quello o quell'altro bar se mi va di parlare con i baristi oppure se non mi va assolutamente di parlare e butto così ore mega bello camminare è bello Carmelo? sì c'è anche il modo di perdere tempo mio preferito che è quello di camminare per Google Street View far finta di essere un americano in uno di quelli villaggi sconosciuti andare a comprare le cose facendosi tutti i passaggi gli incroci anche io quello perdo un sacco di tempo con Google Street View penso cosa c'è a Christ Church in Nuova Zelanda fammi andare a vedere e mi faccio le passeggiate sono l'unico che si droga per perdere tempo io no sbagli Tahir perché vabbè quello è un impegno drogarsi perdere tempo invece è una roba molto seria è un'arte è un'arte senti quando è il momento in cui senti il senso di colpa? sono due momenti quando ritorno poi su internet e incontro due personaggi di cui non farò il nome quando vedo l'arrivo e il loro posto ho capito ho capito dico ok per non diventare così tu adesso spegni e ti metti a lavorare e questa cosa mi colpisce proprio nell'intimo e dico se sono arrivato qua vuol dire che ho buttato tutto e ci mettiamo a lavorare nella fossa delle marianne del film le speculazioni nei commenti no no eh vabbè poi dopo se no qua riceviamo scusate eh se non lo dico adesso però è una cosa intima mi sono aperto e non era una battuta sì 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 poi c'era il rischio che le bippiamo sai oh oh hanno bippato delle battute pagano youtube pagano tutti youtube sì sì tutti quanti tutti quanti mind bipping però invece qual è stato il momento perché è anche bello consegnare cioè diciamo la verità anche la puntualità è una cosa bella quel momento di quando mandi la mail e pensi questo lavoro è finito c'è gente che ci sono persone ci sono artisti c'è forse un artista che quando si tratta di deliverare consegnare e produrre una quantità di materiale incredibile è un po' forse il numero uno anche per scelta sua cioè che fa un sacco di cose anche per ansia che racconta la molt'ansia che ha che però gli permette anche di produrre tutte le cose che leggiamo e quindi quest'oggi abbiamo qui ospite primo ospite della terza stagione primo ospite della terza stagione sì il signor zero calcare grazie mille per essere qua grazie a voi per l'invito tu in che momento sei adesso lavorativo perché è uscito il fumetto però allo stesso tempo sei in una fase di non so quanto si può dire della tua nuova serie che stai per fare per lo scarlatto signore guarda però credo che quando si lavora per lo scarlatto signore l'ansia cresca ma io ho così tante io sto in ritardo su tutto cioè nel senso io ho delle consegne per stasera dei consegne per domani dei consegne per la fine della settimana cioè la consegna per lo scarlatto signore è al momento dici è l'ultimo dei problemi l'ansierò abbastanza ancora in là nella scala dell'ansia però sì quella ovviamente quella su cui più persone mi potranno giudicare comunque è certo bello perché l'idea già del giudizio di ancora più persone ti tranquillizza ti metti un po' più di serenità in più hai conto che tutto quello che faccio spero che lo vedano questa è una cosa di cui la mia casa di diritto sarà molto contenta spero che il minor numero di persone lo veda non dico mai quando esce una cosa mia se non costretto da uffici stampa eccetera quindi in realtà Netflix purtroppo è una cosa che vedono tante persone quando è che è diventato così? cioè all'inizio ovviamente non avevi quest'ansia cioè immagino che all'inizio fosse molto più spontanea il disegno inventare le storie quando è stato il momento in cui hai iniziato a sentire tanta pressione da parte del pubblico? no io ce l'ho sempre avuto nel senso che pure quando da quando facevi proprio le logandine per i centri sociali da subito oddio no effettivamente per quanto te dico che comunque soltanto perché l'assemblea dei centri sociali in qualche modo decideva le cose da disegnare prima quindi non è che c'era che io potevo sbagliare tutto veniva deciso collettivamente ah ok non ti hanno mai infacciato un errore clamoroso cioè non sei mai trovato con l'assemblea di fronte che ti diceva allora è successa una brutta cosa sì ci sono più maschi che femmine ci sono più bianchi che neri diciamo che tutta questa roba io in tempi in tempi non sospetti certo infatti io adesso sono vaccinato sui persi di anni rispetto a tutta questa roba perché io sono veramente 25 anni che mi confronto con questa roba qua però era quello sono state all'inizio le cose poi il blog è stato in realtà il grande inizio dell'ansia da prestazione certo perché lì è iniziato tra l'altro poi il blog partiva subito su internet quindi è lì che hai iniziato anche a misurarti con il pubblico di internet con i feedback i commenti le cose cioè quella roba lì ogni settimana era oddio questa settimana tutti diranno ammazza che merda era meglio prima eccetera quella roba era proprio una roba continua continua e li leggi? li leggevi? io leggo tutto ah tu leggi tutto? siamo in due bene bene non rispondo a tutto ma leggo tutto ma voi siete matti ragazzi no io ogni tanto rispondo dentro di me è anche fuori però ogni tanto non rispondo in pubblico di solito cioè in privato gli scrivi senti allora scusami cioè usi la grande lezione dell'educazione che spiazza sempre le persone oppure rispondi proprio a tono rispondi incazzato in realtà se mi hanno colpito un nervo scoperto su cui effettivamente mi sento in colpa in contraddizione e rispondo in maniera anche cioè in cui dedico effettivamente magari oppure c'è ragione oppure spiego la mia cosa se invece ritengo proprio che quella roba sia gratuita magari vado a litigare ma io mi sono trovato anche tipo ho litigato con una mamma e su Instagram e poi mi ha scritto il figlio 14 anni diciamo ah dammi una punta è bestemmiato in faccia di mare quindi effettivamente era grande sobrietà nella discussione e a proposito di polemiche diciamo che vediamo se colgono il nervo scoperto la famosa polemica sull'eccessiva romanità della tua serie come l'hai come l'hai vissuta c'è stato un momento in cui hai detto aspetta come hanno fatto a scoprirlo no ma io io ritengo che quella polemica non avesse nessuna persona in buona fede all'interno nel senso che ci sono persone che dovevano fare click su quella roba ma tutti sanno benissimo che se uno è capace di andare a fare la spesa da solo è capace di capire quella serie quindi era proprio super gratuito cioè non so non so cose che mi hanno colpito io poi mi immaginavo questi cunesi con google translate romano cunese non si è mai capita quella cosa lì c'è stato secondo me un accanimento sul romano però a proposito di questo tu pensi che la romanità sia un linguaggio comico universale perché i tuoi personaggi sono molto umani e vengono compresi ovunque oppure tu pensi che la tua comicità i tuoi personaggi le tue storie vengono apprezzate perché i personaggi sono molto reali e sarebbe stato lo stesso se fossero stati avellinesi o padovani o padovani no allora secondo me siamo aiutati dal fatto che comunque sono 30 anni che la romanità è sdoganata in televisione a Paolo Bonoli e Cesaroni eccetera quindi alla fine a parte tutto è difficile che uno non la capisce e poi c'è un po' l'idea della lingua simpatica o cose del genere e poi boh no non lo so secondo me alla fine quello che funziona è che la gente ci ritrova qualcosa cioè io faccio un lavoro comunque di cercare di ripetermi le cose in testa prima di scriverle per essere il più simile possibile a come le persone parlano davvero sia nei fumetti che nelle serie cioè faccio un tipo di roba di racconto orale eccetera secondo me se c'è quella cosa magari funziona pure Padovan certo immagino l'armadillo per la vellinese faccio fatica però sì o bolzanese non lo so però insomma ti raggiungo ti raggiungo ti raggiungo come se chiamo ti raggiungo come cazzo tutto sommato ma te dirò che cazzo eh beh ho visto è proprio cazzo però può funzionare tagliare le bestemmi da quello padovano sarebbe stato un casino e mentre mi sono reso conto ora che il nostro armadillo è Tahir è vero non ci avevo pensato sei vero perché anche un po' la voce della nostra coscienza quello lo dicevo certo la voce è di 12 anni meno di noi della nostra quindi spero di non avere mai come coscienza uno che ha 12 anni meno di me scusate se parlo solo cosa hai detto della lingua dei soldi l'altro giorno sono madrelingua soldi ah sei madrelingua soldi stigenzeta mamma mia che dobbiamo fare butto lave che ho battute cose con una piovra stiamo già autocitando ci sta assolutamente ma infatti a proposito di soldi domanda scomoda se vogliamo come funziona il rapporto con diciamo con mantenerti sempre genuinamente attaccato alle storie che fai nel momento in cui hai tanto successo cioè più è successo più si pensa che non guadagni e come sempre succede cioè hai capito la domanda non è che devo spiegare idrattare il cugino scemo no lo faccio per i nostri ascoltatori avellino padova cuneo che magari ecco hanno già cambiato perché dicono c'è ma è un certo caccare che parla quella lingua allora spieghiamo l'italiano grazie per aver detto che ti tratto che abilismo tra l'altro esatto no beh in realtà io ho il fatto che non faccio un cazzo di base nel senso che io non fumo non bevo non mi drogo non viaggio non mi compri vestiti non mi cambio la macchina non faccio niente quindi effettivamente non è che la mia vita in questo senso è cambiata particolarmente seppure facessi delle cose più costose e dovrei fare da solo perché nessuno degli amici miei se li potrebbe permette quindi in realtà non ho dei consumi che sono sostanzialmente gli stessi semmai semmai il problema è che a me questa roba mi ha portato così tanti colli che non campo più nel senso che non faccio più niente cioè io sto a lavorare tutti i giorni dalla mattina alla sera eccetera quindi non ho proprio nessun tipo di esperienza in vita che poi posso raccontare nei fumetti è questo il problema eh quello sì quello è un bel problema davvero e non hai mai pensato di affidarti non so a due o tre giovani talenti li lasci li metti a bottega cose così a tutto conto che mi dai una 50 ogni tanto io sono cresciuto purtroppo negli ultimi anni sono cresciuto sono invecchiato negli ultimi anni probabilmente con mia madre che ogni volta che c'è qualcosa che riguarda me ma che non è fatto al 100% da me forse anche soltanto ogni cazzo di singolo frame della serie animata dice questa cosa si vede che non è fatta se ti condurrà alla rovina perché ti sei venduto ma se lei è la prima a dirtelo ti credo che ti viene tutta quest'ansia gli occhi non li fai così tondi se ne accorgeranno che ormai fai fare le cose agli altri sarai un fallimento totale cioè su ogni cosa quindi in realtà chiaramente ho interiorizzato molta ansia sull'idea di delegar qualcosa a qualcuno certo ti credo però per la serie è stato inevitabile perché come hai detto più volte chiaramente dalla serie ci lavorano rimango sempre l'unico cazzo uno che fa tutte le voci da solo praticamente è una cosa bella psichiatrica certo però ecco per esempio ecco forse nella serie è stata la prima volta in cui hai lavorato con un gruppo di lavoro molto più grande giusto per strappare lungo i bordi sì eri sempre tu nascosto che ti travestivi ti travestivi sono l'animatore poi faccio come è andata l'esperienza di dover appunto condividere una storia personale anche un modo di lavoro mi sembra di capire molto personale che tu hai con altre persone gli hai fatto tipo un corso di formazione gli hai spiegato come ti piace lavorare diciamo che loro si sono dovuti un po' prestare a sto fatto di avere una persona che in qualche modo poi ogni espressione la ridisegnava ogni cosa però sono stato iper corso ogni volta che ho ridisegnato un'espressione mi mandavo una mail di scusi scusate non voglio è tutto molto bello ma se potessimo modificare un po' vi mando quindi ho fatto comunque una roba super mi sembra non ho mai cagato troppo il cazzo a nessuno però è vero che era super controllante poi per me è stato da una parte super stimolante perché comunque alla fine quando tu io quando faccio i fumetti so esattamente che cosa verrà su tavola poi quindi non mi sorprende di niente lì quando loro mi mandavano cose le ricevevo comunque è come se ogni volta c'è una sorpresa è come se uno ti manda a te per email ogni volta un pezzetto di una serie che stai aspettando cioè è una cosa figa che ti sorprende cose che non ti aspetti il problema sono i tempi nel senso che io ho ovviamente un quando io sto in fissa con una cosa ci lavoro 24 ore al giorno 7 giorni su 7 giustamente la gente ha una vita manco c'ha la gratificazione del nome loro gigantesco sopra quindi è il venerdì vanno a casa dalla famiglia ieri perché non state animando le sopracciglia maledetti è domenica alle 15 perché non vedo ancora mi costringono a fare conti con la mia esistenza quindi ecco non ti è capitato di fare quella chiamata in più alla domenica mattina e poi ti sei reso conto che stavi forse un po' esagerando no io questa cosa me la posso permettere soltanto col mio editore che comunque fa una vita di merda come la mia per cui in realtà non mi sento particolarmente in colpa eh vedi prima abbiamo parlato di processo creativo come ci piace lavorare le condizioni in cui che per noi sono migliori per lavorare qual è per te la condizione migliore per lavorare cioè tu sei tipo eremita che ti chiudi nella torre e lavori oppure riesci a lavorare pure nel casino cioè nei periodi in cui magari stai scrivendo una nuova storia ti piace uscire vivere ti piace parlare con gli amici oppure ti chiudi no comunque non è la metafora io non vivo ah scusa non vivo veramente più io l'unica cosa che cerco di fare ogni tanto di andare a un concerto ma per non sentirmi di che so il traditore non si fa più vedere e quindi capace che torno de notte da un posto e riparto la mattina alle 6 dall'altro posto soltanto per fare quella tappa a quel concerto no per il resto in realtà io lavoro sempre quindi lavoro ovunque pure sul treno sull'aereo in sala d'aspetto del dentista cioè io sto sempre a fare sta roba perché stai sempre a pensare cioè comunque perché sto sempre in ritardo con qualcuno che mi dice ah ancora non ci ho consegnato cioè proprio ma che bello che relax che piacere a proposito io avrei una domanda ti è mai capitato tipo la scusa più stupida che hai detto quando magari eri in ritardo su una consegna ti sei mai inventato tipo a me succede spesso di inventarmi la cazzata dovevo mandare il video no è andato via internet i server di WeTransfer non funziona non so se a te ti è mai capitata una cosa simile un botto te cazzate un botto proprio nel senso che cintura nera di questa roba ha mai tempi già descolato nel senso che tutto mando pure delle mail vuote e poi dopo un po' dico ma perché non ti è arrivato l'allegato il problema l'unico vero problema quando sei più conosciuto è che ti tannano un sacco le cazzate che comunque sia se tu dici io quel giorno non ci sto e poi vai in un posto esce la foto su instagram di quella bar che dice fa una foto io comunque sul dove mi trovo me tannano proprio al 100% sempre sta cazzata già hai raccontato a Bowner 2009 ci hai provato già sentita e quindi vabbè ovviamente diventa sì mi posso immaginare che diventi molto più più complicato però se diciamo come dici lavori tantissimo dove prendi l'ispirazione per le nuove storie non ce l'ho più però sei molto prolifico però dai non è vero beh sto cercando una risposta che mi faccia sembrare un artista consapevole ma in realtà io so prolifico per il senso di colpa mi muove gli incastri gli accolli poi comunque ogni tanto mi mandano tipo per l'ultimo libro mi hanno mandato nel nord degli iracchi kurdi quindi in qualche modo ho un racconto di una roba che vivo effettivamente però è vero che se io dovessi ma a parte io sono sempre stata una pippa che c'è l'idea sceneggiatura le cose insomma è stato buono io l'unica cosa che ho imparato a fa è le cose che mi capitano nella vita le traduco in linguaggio fumetto però è vero però se sottrai sempre di più momenti diciamo di svago di vita diventa poi complesso riuscire a raccontare tutto per esempio noi parliamo spesso con Luca per noi è proprio fondamentale vivere esperienze per poi raccontarle sul palco quindi poi diventa no perché mi affascina molto questo però è vero cioè se non riesci a riuscire mentre lavori più lavori più lavori più ti dimentichi più cresce il lavoro meno cresce la possibilità di raccontare racconti solo di quello racconti quanto lavoro eccetera che fa ridere una volta due volte a un certo punto certo ma a proposito di viaggi quando ti mandano in questi posti hai mai pensato di farlo al contrario cioè andare a farti una settimana che ne so è una domanda una vera minchiata in non mi guardare con questo sguardo perché mi stai delicando no farlo al contrario cioè farlo andare che ne so in Costa Smeralda a vedere cosa potrebbe essere il tuo modo di vedere quel mondo ho fatto un esempio perché mi baso sulla puntata di Piff è una roba un po' alla Piff cioè qualcosa che si collega nel inserire un personaggio in un mondo e raccontarlo in un modo in una cosa fuori magari dalla tua un punto di vista così forte come hai tu come lui spero che sia un paragone che ti possa fare anche piacere però non mi guardare mai più così per essere che è stato solo ascoltando mi ha guardato dentro l'anima sembra che gli stavi vendendo è una charma no però sei mai pensato di dire aspetta proviamo a vedere dall'altro sarebbe divertentissimo allora premesso che io odio partì proprio non vado manco in vacanza cioè per me partì è proprio una violenza l'incubo dei tuoi operator tu e anche di tutte le relazioni della mia esistenza ok ovviamente quindi per me l'idea che io scelgo di andare in un posto per raccontarlo senza qualcuno che mi costringe col senso di colpa è proprio impossibile e in generale l'idea di raccontare qualcosa però di molto estraneo al mio quotidiano però non lo so magari pure soltanto a Roma Nord nel senso senza dove arriva in Costa Smeralda è una cosa che mi farebbe ridere però a parte scherzi è vero che io non faccio praticamente ma non voglio ma sembra che sto a fare la cosa della lagna del piagnone eccetera però io non sto a fare niente per piacere di farlo nel senso che io ho una tale quantità di accolli di cose che in qualche modo sento di essere di dove fare perché mi sento che se no mi sottraggo a una cosa che mi toccherebbe ma non dico in senso commerciale non è che mi obbliga Netflix o la casa editrice anche soltanto delle cause che mi stanno a cuore delle persone che dicono noi per far uscire un articolo ci dobbiamo far spaccare la capoccia e far restare in 15 e basta che fai un fumetto per favore aiuti a far sta roba e magari sono persone con cui voglio bene con cui ho condiviso tante cose eccetera che stanno così tanto in arretrato che effettivamente io non riesco a pensare adesso mi dedico a una roba che mi va di fare e dedico un mese del mio tempo a fare questa roba cioè io non ce l'ho proprio nella mia esistenza in questo momento lo prendo per un no esattamente nonostante io avrei una domanda cioè tu dici sempre che alla fine quello che ti muove è il senso di colpa no? il senso di colpa verso quello che ti aveva chiesto un favore il senso di colpa però forse come tante persone alla fine uno è dipendente dal lavoro perché pensi se non c'è più quel senso di colpa che cosa faccio? cioè te lo sei mai chiesto tipo se oggi io non avessi nessun cazzo da fare perché non c'è più nessuno che mi chiede le cose come mi piacerebbe passare la giornata? ma ammazzo quello capito perché ci sono pure persone che da anziane tu dici hai lavorato una vita sei in pensione e continuano ad avere cose da fare ma cose che che gli creano ansia e vanno avanti con l'ansia quindi è proprio una costante tipo un circolo alla fine è un buon motore è un buon motore è un buon motore comunque è una droga l'ansia è una roba che quando io se c'ho un giorno completamente off c'ho proprio air down di quella roba e c'ho l'horror vacui proprio pure perché poi devi fare conti che quando vivi così praticamente c'hai una specie di deserto umano che fa sì che poi quando devi fare i conti con tutta una serie di cose che non c'è più il lavoro a tappare i buchi no è terribile però sai c'è tanta gente che molto all'ing no però no ma è bello I feel you assolutamente io finisco domani il tour quindi ho questa stessa paura capisco benissimo in modo molto meno pesante rispetto alle consegne alla vita che fai tu però è vero finisci di viaggiare e dici adesso adesso ci vuole una nuova tappa un nuovo tour da scrivere su è vero anche per poter raccontare le cose e stiamo parlando di lavori creativi cioè comunque dove si accende la fantasia tutte le cose legate all'ispirazione che danno anche una soddisfazione enorme pensa a questa cosa in rapporto ai lavori 8 ore al giorno 5, 6, 7 su 7 quanto è una droga differente e però lì ci sono anche gli sfoghi molto pesanti che però tu ci raccontavi questi sfoghi bere droga tutto quanto fumo li lasci da parte quindi capisco che quella giornata sia un po' con le mani che tremano quanto ti aiuta essere tu sei straight edge è corretto definirsi giusto per te è un diciamo ti aiuta molto nel lavoro diciamo aver abbracciato questa filosofia oppure è un qualcosa che hai abbracciato molto tempo fa io da quando avevo 17 anni quindi ormai non mi ricordo manco più come embriagasse non mi ricordo niente e mi aiuta no penso che seppi pausa o meglio da questo punto di vista sapi che questa cosa verrà tagliata e messa piccola piccola su tiktok esatto i nuovi mostri questo ci sostrisce la notizia prima volta ci stisca la notizia ci sei mai andato no fin d'ora benvenuto sentite cosa c'è da dire il noto fumettista zero cacca 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 no è una cosa che no ecco no questa è l'unica cosa che in verità l'unica cosa su cui mi ha aiutato forse è a tenere un pochetto la barra dritta nel senso che comunque a me mi sono capitate così tante cose negli ultimi decenni che sono proprio antitetiche anche proprio al mondo da cui provengo eccetera che per me il fatto di mantenere dei paletti super rigidi mi ha consentito di non assuefarmi pian piano a a mondo a meccanismi certo di business mondo dello spettacolo si nel senso ti ha dato rigore io mi sono proprio aggrappato a questa roba in maniera un po' identitaria pensando che se io cedevo un'unghia poi rischiava che sebiava tutto e allora tu prima hai detto che non andresti mai a raccontare ambienti che che non sono diciamo del tuo mondo tipo Roma Nord però a me c'è una cosa che ancora non mi torna in questo percorso di grande coerenza centri sociali poi successo poi non ti sei mai venduto sto Chateaubriand ci spieghi un attimo anche io a un certo punto Chateaubriand ricordiamo liceo romano privato francese in realtà ai tempi me non era privato era pubblico per i francesi ah ecco e era nel senso che anche gli stessi insegnanti erano del ministero di istruzione francese era proprio una scuola pubblica per gli italiani invece era privato ai tempi prima prima i francesi impagavano proprio niente niente poi c'è una retta ridotta eccetera credo che sia cambiato tanto negli ultimi anni comunque gli insegnanti sono italiani proprio prima no che non significa che non fosse comunque confio te faccio da cazzo però io sono francese anche se non sembra mi ha tre lingue e nazionalità e mia madre a un certo punto quando io ho cominciato a non risponderli più in francese a rispondere in italiano è impazzita nel senso che è come se praticamente ha un figlio di uno dell'Isis comincia a recitare non lo so panariello in corano è una cosa inaccettabile e quindi questa cosa a un certo punto mi sono detto tu devi andare a imparare a francesizzarti perché è così ho capito quindi non giravi sulla momentana che è la macchinetta con la liceo avresti preferito la liceo-likesam dovendo scegliere una biblia che è la metropolitana certo ok sì sì quando parli in francese con che accento parli? in realtà parlo con l'accento terzud perché penso che la mia famiglia è delle parti di Nizza ex-en-Provence tutti quei pizzi là quindi parlo che si capisce che sono del sud e forse ogni tanto esce qualcosa di romano ma poco devo dire nessuno ti ha criticato in Francia dicendo il tuo fumetto è troppo della francese è troppo è troppo marsigliese no però devo dire che non non l'ho doppiato io in francese e c'è comunque un traduttore francese una traduttrice francese che che lo fa sennò probabilmente mi avrebbero che cazzo pure su quello e senti invece tu hai un pubblico estremamente affezionato talvolta troppo un po' troppo affezionato quando è che hai iniziato a sentire che questo enorme affetto del pubblico forse stava togliendo qualcosa alla tua vita privata che prima ti piaceva e che magari adesso non ti puoi più concedere guarda in realtà io non so uno che su questa roba nel senso che poi in generale è meglio se la gente te vuole bene che te sputa un faccio insomma quindi tutto sommato su quella roba non ho grossi problemi tra l'altro io ho un problema mio di trovare una cosa che è un meccanismo di rapporto col pubblico giusto equo nel senso che per esempio il motivo per cui sto tour dei disegnetti era dei 8000 ore dei disegnetti dalle 15 alle 2 di notte eccetera è perché io sto in fissa che non posso fare un trattamento cioè non posso a un certo punto a uno di guarda mettiti in fila e poi però quando io voglio andare a casa dopo due ore tre ore quattro ore tu sei fatto quattro ore di fila gli dico guarda rivederci ne vado non posso dire si fanno i primi 50 che arrivano perché giustamente se uno lavora allora non può mettersi in fila allora che penalizzo quelli che lavorano se lo faccio la sera penalizzo i ragazzini che non possono tornare cioè diventa una cosa che a me cioè quello che effettivamente a me rovina la vita è il tentativo di fare una roba che è giusta per tutti che ovviamente è impossibile perché io così faccio 12 ore e sto distrutto comunque sia la gente rusica perché tanto comunque poi io mi ritrovo 8000 messaggi su instagram di qualcuno che dice eh però comunque io avevo il treno sono dovuto ritornare non facevo un tempo ho fatto la fila la prossima volta da cortello in panza vero eh vero preciso e quindi comunque poi che è un po' male lì dico rispondo male ah cazzo ho fatto tutto quello che poteva fatto 12 ore diventa un incubo così quella è la parte che mi pesa molto di questa cosa perché poi per il resto pure se ci stanno i mattarelli pazienza no certo è per questo che ti abbiamo comprato una bella fotocopiatrice però è bellissimo questa cosa questo rapporto ma hai paura che non facendolo una volta o due volte o tre volte perché hai troppi impegni si possa spegnere questa fiamma e questo rapporto così forte con i fan cioè c'è una parte di te che dice se è andata bene fino ad adesso non posso cambiare questo modo che ho di rapportarmi con il pubblico di essere come sono devi sempre stare su quel binario allora questo forse è il motivo vero regondito ce n'è un altro però nel senso che comunque io ho fatto altri lavori prima di fare questa cosa qua e lavoravo 8 ore a Fiumicino più 2 ore per annaccio e tornato sto là alle 6 di mattina con la sveglia alle 4 e nessuno mi diceva poverino liberatelo eccetera è assurdo che se io sto a fare disegni per lo stesso numero di ore invece sembra che è una roba contro la convenzione di Ginevra che è lo stesso numero che tutte le persone vanno in ufficio o in fabbrica o quello che è quindi diciamo che una parte di me trova immorale sottrarsi a questa roba in quei termini soprattutto perché comunque guadagno molto più di uno che va in ufficio in fabbrica però forse la verità è che penso che se rompe tutto e nessun esiste questa cosa per cui dici sì sì è vero che c'è anche questa roba qua chiaramente però ti sarà capitato una volta che stavi con le mani che tremavano stanchissimo e hai tirato proprio un disegno e hai detto dovevo farlo con un po' più di attenzione beh no io alla gente gli dico però questo è successo che tu abbia fatto un disegno e una persona ha detto ah beh cos'è sta roba dai ma tutto qua cioè dai oh scusami questo accento però io lo avverto prima io te lo dico viene di merda sta roba che tu ti incaponisci io te lo faccio ma vero che è merda e vabbè no dai allora dai fammelo io dai non verrà così male dai sono venuto apposta sono sette ore dai grande vai fallo tu fai una cosa mi fa male le mani non ce la faccio più ti prego con tutto che ti voglio bene la firma l'autografo eh questo non mi piace dai rifammelo te l'ho mai detto al volo in faccia dai rifammelo no però questo forse è il massimo la delusione l'hai letta la delusione negli occhi l'hai letta esatto l'ho visto negli occhi e l'ho trovato sui bei il giorno dopo no questo non me lo immagino quindi la gente si rivende i tuoi disegni vabbè ci sta ci sta quanto sono quotati così per se ti sei fatto un calcolo dipende cioè disegno su prima profezia dell'armadillo arriva pure a 8-900 euro se no disegno su una roba di merda pure 50-60 vedi che farti queste 7 ore di coda sono ripagate tutto sommato c'è chi lo fa di lavoro a questo punto sono anche curioso dicci le cose più strane che ti hanno chiesto di disegnare no vabbè tutto tutto un cazzo vabbè ragazzi il cazzo è il mio cavallo di battaglia però insomma ci stanno un sacco di cose da quello che ti chiede la co disegna i miei due gemelli che sono appena nati maschio e femmina ma me li devi disegnare quando ci avranno 16 anni mentre litigano ma si deve capire che si vogliono bene signora la terapia è un percorso assolutamente ormai tollerato in Italia non c'è più lo stigma io in realtà fumetti zero leggevo Topolino solo quando davano il walkie talkie i pezzi per costruire l'anemometro aveva già 26 anni sì ma sicurezza ha detto come li trovo i bambini l'anemometro sì per misurare la velocità del vento è classico è un strumento professionale sicuramente con Pippo sopra sì al Cern al Cern di Ginevra utilizzare l'anemometro con Pippo ti volevo fare una domanda viste le nuove normative sulla circolazione dei monopattini secondo te vale la pena mettere in regola il mio vecchio oppure ne devo comprare uno nuovo io non sono andato su nulla che abbia due ruote nulla in bicicletta usi ancora le rotelle a me a 5 anni mi madre mi ha detto te leviamo le rotelle adesso io ho detto se tu le avrai le rotelle io non sarò mai più su una bicicletta io non sono mai questo è un bell'oggetto da rivendere su ebay cioè la bici di zero calcare ancora con le rotelle poi dico una bici da mountain bike super tecnica però con le rotelle non sono manco più andato con le rotelle cioè oggettivamente non so proprio come fioretto hai rifiutato sì sì ma sport? vado a correre ok che rapporto hai con la corsa? ecco in realtà l'unica cosa di evasione che ho nella vita è la corsa ma ti sta crescendo ti sta montando quella cosa ma sai che forse la maratona di New York fra un paio d'anni me la vado a fare ti sei sentito si chiama invecchiare questa cosa però ti sta montando questa dinamo di autolesionismo è montata negli ultimi dieci anni adesso sto nella fase successiva in cui la schiena mi sta cedendo e quindi forse la maratona non nemmeno posso più fare perché ti dico cosa arriva dopo la bicicletta segue la bici e poi il fascismo diretto corsa bici e poi ma perché vengono qua i nostri porti vanno però questo è il percorso classico noi uomini dicevi scusami hai fatto un matto? no no dicevo che io ho fatto proprio il giuramento sulla bici non posso ah proprio c'è proprio una pietra su cui hai scritto io non salirò mai più su una bici se tu levi quelle cazzo di rodelle e lei l'ha tolte e lei l'ha tolte e lei l'ha tolte e convinta che i bambini dicono così a cinque anni figurati se poi lo mantiene insomma è pezzaglio ma non è che aveva tolto quelle grosse? ma e senti questa permette di chiederti questa diciamo non severità però capacità di essere rigoroso rispetto a quello che dici o quello che pensi la pretendi anche dagli altri nella vita sul lavoro in generale no nel senso che comunque intorno a me ho le macerie umane quindi insomma non potrei ma io pure adesso sono molto rigoroso su certe cose e sto completamente allo sbando su altre e però no tendenzialmente non cago il cazzo a nessuno sul lavoro un pochettino di più nel senso che se una persona mi chiede perché tutte queste robe di rigore nessuno me le chiede so io che so pazzo quindi non posso pretenderle a nessuno sul lavoro se tu mi chiedi effettivamente di spolparmi la vita cioè pretendo che pure tu te la spolpi quindi tendenzialmente cerco di lavorare con persone che non mi fanno sentire l'unico coglione che sta là giusto giusto ci sta e prima sarà scattato il classico momento che abbiamo ogni volta in ogni puntata di Edo il rapporto con i dicei e Roma in particolare Roma Nord poi Chateaubriane come l'hai vista cambiare Roma in questi anni è una delle domande che abbiamo segnato Roma ti va di parlarci la tua Roma siamo sul messaggero no però il dato il dato importante più triste è che sembra che a Roma chiudano sempre più luoghi di aggregazione chiudono i centri sociali chiudono i locali più sani in cui ciascuno di noi è passato la propria gioventù in modo che non altro come finisce questa storia secondo te è in tragedia Demo nel senso che effettivamente c'è stata negli ultimi anni sono caduti come mosche praticamente è pure vero che io sono cresciuto soprattutto nei centri sociali negli spazi occupati e un sacco di quei posti ancora esistono sono vivi si sono trasformati abbastanza nel senso che da posti che erano proprio fucine controculture tutti gli stili anche musicali hip hop il punk eccetera cioè se eri un ragazzino tu avevi soltanto quei posti lì dove andare a suonare quella roba mi sembra che adesso alcune di queste cose cioè tutte anche non so penso a trap ma forse la trap è pure vecchia ormai devi parlare con Tahir è finita che stai sento il rappresentante mo la drill mo che cazzo è la drill la drill è tipo una corrente rap nuova che viene in teoria viene dall'America però c'è la corrente nuova inglese dimmi i tre nomi romani dei drill romani ma romani non c'è più rapper tra un po' a Roma cioè quelli anche già nuovi che poi sono diventati vecchi ma che vestiglia se ne sono nati tutti stanno tutti a Milano però no artisti nuovi non ne escono da un paio due tre anni almeno italiani in generale drill beh italiani drill è una cifra già tutta la generazione nuova Rondo Seven Zob Baby Gang Touche Rondo so che lo chiamano il bislungo eh è vero chiamano il bislungo quel ragazzo ragazzo molto alto e su Instagram lo scherzano la generazione nuova è una delle cose che proprio mi sono messo davanti allo specchio e ho detto sono diventato proprio un boomer di merda c'è un quadro tuo in soffitta che ascolta musica di qualità cioè sta iniziando anche tu ad avere difficoltà a seguire la scena un rappuso come li chiamavamo noi a 13 anni i rappusi di quelli che sentono il rappo allora è Tupac questa roba è uguale ma questa è la nostra frequentazione il minimo che ti poteva capitare considera a breve starei a sentire il concerto degli America con i nostri papà tutti insieme bene ci mettiamo sulla multipla per poter stare tutti e tre davanti a sentire Hotel California a sentire Eagles a sentire i Creedence Clearwater insomma dicevi prima dei post eh no che effettivamente questa roba qua non nasce cioè non è che incrocia spesso il mondo non c'è bisogno dei centri sociali e ci sono tanti altri locali che si sono un po' succhiati quel tipo anche di estetica e di cosa ovviamente messa a servizio di una roba commerciale e però si sono eh un po' appropriati di quella roba là quindi effettivamente il tipo di socialità a cui sono legato io è comunque sotto attacco da un sacco di tempo eccetera poi è una città che si è incattivita prima non esisteva l'idea di fare le foto e barboni di metterle su internet eccetera cioè quella roba là su tutte delle cose che effettivamente secondo me hanno imbarbarito sta città però è molto creduscolare eh no no però è però è proprio questo è vero eh però adesso mi è venuta la curiosità di farti le domande come se fossimo veramente un'intervista del messaggero fatta da questa giornalista di 65 anni i cinque luoghi del cuore di zero calcare la tua gelata e i tuoi posti i posti per il pubblico che magari non ti conosce che noi abbiamo lettori diversi dai tuoi dai ragazzi tu hai cinque luoghi del cuore di Roma ma non solo no non lo so ci sarai cinque posti no adesso scherzi no perché ho paura che faccio anche parchi anche parchi anche luoghi pubblici luoghi pubblici dai stai per dire Ikea che dirò parcheggione The Decathlon non mi trovo ma non esiste ancora possono anche essere no no l'articolo anche i luoghi della memoria anche i luoghi tuoi allora la sarà giochi Stargate di Via Noventana da cui a Rebibbia uno andava a piedi però è diventato un antiquario Stargate era Via Noventana fuori verso San Basilio vicino a Branca Leone no vicino a Branca Leone ed è fuori ed è un antiquario adesso che tra l'altro è uno dei pochi casi al mondo in cui tipo una ex sarà già che diventa un antiquario cioè generalmente è il contrario ma è il contrario forse era il contrario adesso infatti eh ma che sia stata presa da un antiquario è strano nel senso magari oggi ci avrebbero fatto una pizza al taglio esatto con i vecchi che si mangliano gli spazi del giorno è strano e poi vabbè in realtà Rebibbia tutto di Rebibbia cioè ogni metro cubo metro quadrato di Rebibbia per me è il posto più bello d'Europa poi per andare a correre Villada nonostante Villada sia vabbè laghetto o sopra laghetto 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 se io corro dalla parte bassa parte bassa quindi il circuito di Giuliano del laghetto dove puoi incontrare Giuliano Amato correva così mi dicevano davvero non mi hai incontrato Giuliano Amato perché si veste tutto tecnico e siamo a tre siamo a tre perché alla fine facciamo montare tipo su questi luoghi che stai nominando che non ci sono più facciamo non so i The Kills o i Band of Horses mettiamo tutta la cosa di Roma bellissima sto pensando se ci stanno altri posti che mi piacciono in Roma ma io sono estremamente monumento storico preferito sai quelle domande professoressa attanasio esatto ci racconti un po' siamo in gita lei è la supplente di inglese quella un po' più giovane che non sa come rapportarsi ma il vostro monumento preferito che ne so il cimitario il verano mi piace un sacco il verano pure quella cattolica quella cattolica è bella però in realtà il verano mi piace di più e ne manca un quinto adesso ne manca un quinto tocca trovarlo potrebbe essere anche che ti devo dire devo pensare fuori dagli schemi quindi qual è il posto in centro dove ti piace andare cioè che se sono 17 e 30 e ti trovi in centro a giugno con una bella luce sei contento di starci? no l'Agne non è al centro l'Agne però l'Agne è bello cioè l'Agne lo trovo bello non cioè è un fiume più più modesto del Tevere più umile più umile non si accolla l'Agne non si accolla e in effetti l'Agne passa proprio da sotto casa tua e procede verso Montesacro tutti quanti luoghi che poi alla fine hai detto adesso eh infatti bello bell'articolo lo mettiamo a pagina 10 questo e invece parlando il tuo ultimo lavoro è un lavoro particolare l'ultimo libro che hai scritto immagino sia stato piuttosto impegnativo No Sleepy Shengal come è nata è stata un'esigenza fare questo questo libro dopo l'esperienza di Kobane sei voluto tornare voluto continuare a raccontare è stata la comunità kurda che non voglio attaccare la pippa Shengal è un posto nel nord dell'Iraq dove stanno gli Yezidi gli Yezidi sono questa popolazione che è stata massacrata 74 volte almeno le loro crona che riportano nel corso dei secoli perché vengono sono di una religione molto antica pre-islamica di tipo Zoroastriano che per il mondo circostante è eretica satanista addirittura eccetera e quindi l'ultima volta hanno subito un massacro da parte dell'Isis nel 2014 che è stato riconosciuto come un genocidio dall'ONU che in cui sono state uccise migliaia di persone e migliaia di donne e di bambine sono state rapite e stuprate e vendute come schiave sessuali nei mercati poi a RAC eccetera chi doveva difenderli cioè lo stato iracheno e il Kurdistan iracheno è scappato nel momento in cui è arrivata l'Isis gli unici che le hanno aiutati sono stati i guerriglieri del PKK kurdo che poi li hanno anche aiutati a scappare e poi a ritornare insieme a Armi in Pugno e riprendersi casa loro quindi sostanzialmente adesso a Schengal ci sta quella che loro chiamano l'autonomia di Schengal cioè autodifesa da loro che si ispira ai valori della rivoluzione dei kurdi quindi la centralità della liberazione della donna la convivenza tra tutti i popoli e le religioni eccetera in realtà però ovviamente lo stato iracheno dice voi non potete fare un'enclave autogestita all'interno dello stato quindi disarmatevi e fate tornare esercito nostro loro dicono voi ci avete fatto massacrare noi non ci fideremo mai più di disarmarci eccetera e i turchi li bombardano ormai quotidianamente anzi negli ultimi giorni sempre di più e quindi è un'esperienza che è super minacciata e un anno fa era scaduto l'ultimatum diciamo per cui dovevano disarmarsi e la comunità kurda diceva no bisogna che una serie di persone vadano lì per raccontare documentare questa roba e accendere un riflettore prima che succedano cose terribili quindi ci hanno mandato giornalisti attivisti e nel caso mio un fumettista questo per dire che in realtà la spinta è arrivata loro non è che mi sarei mai svegliato nella vita dicendo adesso vado nel nord dell'Iraq dopodiché mi sembra che quando uno ha parlato dentro Kobane Calling di questa cosa ne ha parlato tanto gli sta a cuore quella causa eccetera come fai a di sai che c'è io ho finito il libro chiudo e basta parlo d'altro è qualcosa che un po' devi continuare se sei una persona un po' decente a dare a dare continuità a quella cosa e come ho letto una cosa interessante su come viene come si autogoverna questa regione è un sistema particolare è un sistema che funziona tutto di diciamo di di dimocrazia diretta nel senso che ci sono tutte delle assemblee a livello dei quartieri dei villaggi poi dei cittadini che eleggono delle commissioni diciamo per ogni cosa per la parte di salute sicurezza difesa istruzione eccetera e queste commissioni hanno sempre una copresidenza maschile e femminile e poi vengono discusse tutti i passaggi vengono appunto discussi poi messi in opera e messi a verifica da parte dell'assemblea stessa ogni due settimane che devono decidere come sta andando se correggere il tiro eccetera è una cosa che effettivamente richiede la partecipazione di tanta gente e può sembrare una cazzata nel senso che io mi rendo conto che quando uno racconta queste cose molto lontane uno pensa boh questa potrebbe di qualsiasi cazzata tanto come facciamo a verificarla ma io stesso lo pensavo quando me lo raccontavano e devo dire che questa roba è vera con tutte le contraddizioni del mondo però effettivamente questa cosa funziona chiaramente in dei posti in cui abbiano pochissime persone se conoscono tutti eccetera è molto più semplice metterla in opera piuttosto che immaginarcela nei metropoli nostri cioè noi ti avevamo proposto la vita smeralda e tu sei andato a fare sono scelte ti ho apprezzo veramente due settimane stavi lì al sottovento sopravento e la stessa cosa è una comunità che si auto-organizza anche l'azione fiscale più totale più totale più totale scherzo ti ricordi qualcosa di buono che hai mangiato questo viaggio? ti posso dire che ogni volta che ci abbiamo messo un botto arrivava perché è una strada di tre ore di macchina però ci sono un miliardo di checkpoint ci abbiamo messo tre giorni e mezzo ogni volta ci rimandavano indietro eccetera e loro la cosa più buona che ci hanno è l'agnello tipo perché lo fanno per i super ospiti il lamb esatto soltanto che loro ogni volta ammazzavano sgozzavano stagnello cucinavano ma noi ogni volta quando stavano per arrivarci rimandavano indietro terzo giorno ci hanno detto abbiamo finito le capri non sappiamo più che fare o arrivate oppure non mangiate più questo lo sta a fare per te beh sì così è una bella responsabilità a mangiare mi rendo conto diventa un po' e poi tutto per forza come le nonne calabresi perché se no loro pensano che tu stai rifiutando perché li consideri impuri come quelli che li hanno massacrati e lei è offesa morta no aspetti signora signora no signora aspetti viaggiare è complicato quindi la prossima volta va in Calabria secondo me di fare un video reggio Calabria calling beh ma è più facile forse è più facile arriva a Schengal guarda come si arriva infatti a Schengal Schengal ci si arriva passando per se non puoi passare dalla Turchia devi passare per gli Emirati Arabi poi mi pare poi arrivi in Iraq e poi hai un'infinità di macchine cioè una macchina che devi prendere con un'infinità di checkpoint poi ci stanno i taxi ma io in realtà i taxi ho sempre il terrore che mi vendano ma pure a Roma il terrore che mi vendano all'Isis quindi il taxi è proprio un mezzo che mi dà pochissima sicurezza non ho mai preso un video se non per obbligo Schengal fa ride comunque il taxi a Schengal sì non so se mi fiderei neanche io Schengal il tassista si sporge e fa eh vedi esce chimica esatto esperienza a me è capitata realmente ma si fa ancora spesso la cosa i checkpoint col passaporto con dentro i 50 euro quella cosa anni 80 90 guarda questa cosa l'ha fatta soltanto una persona con cui ho viaggiato però qualche anno fa convinto di essere quello super schiafato e l'hanno arrestato benissimo la fine di Luca Ravenna è questa ragazzi ci penso io opla non aventi questa c'è stato un momento in cui ti sei veramente cagato addosso a un posto di blocco io mi sono cagato addosso un botto qua a un certo punto ci hanno portato ci hanno levato i telefoni i passaporti ci hanno portato in una caserma dell'intelligence con tutta gente con la faccia coperta e uno con la maglietta della Juve che ci contava il mitra addosso no io mi sono cagato sotto in varie situazioni qua devo dire però alla fine forse magari uno che è abituato a sta roba lo trovava normale il cazzo beh difficile trovarla normale dai quando torni da questi viaggi quando torni a Rebibbia a casa qual è la prima cosa che vuoi mangiare la carbonara anche se è notte fonda la carbonara e hai un posto di riferimento dove riesci a fare questa cosa mio padre ah ok ok non fanno la pasta bolognesa a Schengen non c'è verso proprio non c'è una cosa delle merendine degli anni 80 pensate c'hanno tutta roba degli anni 80 forse proprio dei quei tempi la famosa battuta di perdone mi andava presa sta coca cola a cartagine così e quindi c'hanno merendine gomme da masticare cioccolato degli anni 80 c'hanno tutta roba così pensate tutte cose c'hà roba rimasta lì dall'epoca evidentemente quindi vuol dire che si può andare ben oltre la data di scadenza questa comunque è un tema facciamo il girale di pokemon dove andiamo a vedere quello non credo quelle merendine quelle con la moneta di cioccolato sopra che non fanno più il soldino il soldino li ritrovi a Schengen magari portale pure quello si bevano un sacco di soldi un soldino intatto soldino tipico soldino di Schengen in realtà ho visto un video c'hanno delle merendine nostre vecchie con dei nomi però diversi c'ha tipo il kinder buono c'hanno le versioni tarocche veramente c'hanno la nubella in che situazione hai visto questo video? adesso sicuramente c'ho un problema mi addormento con tiktok tra l'altro in una live un sensitivo napoletano mi ha detto che c'ho il sesto chakra troppo aperto quindi attenzione e questo cosa c'entra? cosa c'entra? per quel lavaggio del cervello che mi fa tiktok la sera prima di dormire senti che rapporto hai con i social invece? che ne guardo un po' guardi molto guardo molto però non scrivo quasi più un caos perché anche lì ti viene il sangue amaro ti rompono il cazzo da morire visto che comunque se scrivi delle cose soprattutto dopo la serie Netflix ogni cosa che scrivevo finiva diventava la polemica sul in prima pagina sui quotidiani online quelle cose là un giorno un amico mio mi hanno detto guarda sembriva Barbara D'Urso del fumetto basta e quindi ho capito che è meglio se sto zitto comprensibile ma ce lo fai un piccolo spoiler uno scherzo spoiler sulla frase che avresti voluto scrivere su Instagram sulla serie quelle cose lì un po' ha un po' la fazza che a un certo punto morbidamente risciando il pelo all'ospedale ma ce la dici una cosa che non dirai da nessuno no non mi va assolutamente invece una cosa il rapporto con la televisione cioè tu guardi televisione italiana proprio la Rai o Mediaset o Rai Play che è il canale preferito di Cecilia che è stata una scorsa ha ricevuto dei soldi catalogo certo di tutto rispetto sono in comune con mi madre vedi ma tu madre riesce ma stavo scherzando la stai difendendo al fai ha 63 anni ok accettabile allora e se usa internet se usa Rai Play si si sta in fissa cioè più che altro io l'avevo messa Netflix Prime le ho dato tutte le comodità poi lei sta su Rai Play invece a guardar se da computer o se può guardare ipad mi madre tv mia madre è uguale ipad Rai Play si vede ovviamente la serie più importante degli ultimi anni che è quella sul commissario donna in in Matataranti no no mia madre è Don Matteo a stecca tipo 20 volte avrà visto tutte 50 le stagioni io vado là e dico ma spendo 50 euro di abbonamenti al mese e mi mettete in film ah ma manco guardo mentre gioca a Candy Crash lo sento mi fa compagnia così che frustrazione eh vabbè quanto aiutano le mamme a fare i grandi sketch la guardi quindi la tv italiana in realtà poco cioè effettivamente guardo proprio un sacco di piattaforme la tv la guardo quando succede qualcosa che devo guardare i telegiornali quelle robe là però sei cresciuto con la tv come noi cioè che ne so cartoni Sonia di Super 3 tu te la ricordi? a me mi ha scritto Sonia di Super 3 non esiste gratificazione più alta per me diglielo un po' diglielo un po' perché lui essendo milanese io e Sonia ci scriviamo un paio di volte all'anno e lei sa benissimo che io sono cresciuto e non l'ho vista ma ci siamo scritti ogni tanto come stai Luca come va il tour io la saluto e non c'è e so che voi romani impazzite no no ma per me è una divinità io non ho il coraggio di scriverle a Sonia mi piacerebbe tantissimo Sonia scrivi anche a me per cortesia ogni tanto dammi una soddisfazione è una cosa super commuente perché ogni volta che qualcuno ci ha successo Sonia è orgogliosa di noi come se fosse nostra madre anzi morto più di quanto la nostra madre e quindi in realtà ti comunica proprio una cosa ah vi ho cresciuto bene sì sì io l'unica volta in cui l'ho incontrata gli ho detto guarda Sonia veramente grazie mi ha detto lo so lo so vi ho cresciuto a tutti è stato tipo un abbraccio grande Sonia io non le scriverò mai perché le ho scritto una letterina a suo tempo e non l'ha letta a birillo è arrivato ma ci avevi 30 anni con la foto di due mutande ciao Sonia quest'anno vorrei un rasoio per i peli del naso e delle orecchie però era Babbo Natale Sonia sto sovrapponendo due livelli diversi effettivamente però insomma appunto sei cresciuto vedendo molti cartoni immagino ci sono dei cartoni che ti hanno influenzato poi per la scrittura dei fumetti e beh io mi sono guardato veramente tutto cioè nel senso che mi guardava la roba dei Super 3 dei Italia 7 dei tutto proprio quindi stavo in fissa mi aveva influenzato tutto in maniera inconsapevole le cose che poi invece mi hanno influenzato in età adulta è in cartone francese che non conosce nessuno che si chiama Lilla Scar no non lo conosco no Loulou de Montmartre al massimo eh? io al massimo Loulou de Montmartre francese conosco che cazzo su una che balla orfana è basato questo è assurdo due piante eh no perché il Billy Elliot di tre stelle il sonne già a dieci anni eh quattro di notte su Rai Gulp quello c'era qual è il tuo classico Disney preferito? allora fino a quando contano classici? ma facciamo fino anche quelli moderni dai secondo me fino a Mulan sì Mulan dell'imperatore vabbè ma come tutta la mia generazione credo che quella roba scusa quanti anni avevi quando è uscito la folia dell'imperatore? ero grande ah e ti è piaciuto quindi da adulto? c'è più quello della spada nella roccia più la robin hood però la spada nella roccia e robin hood non c'avevano doppi livelli cioè secondo me la folia dell'imperatore c'aveva un'ironia che pure uno grande poteva si poteva divertire la spada della roccia quelli sono cartoni super belli però insomma da grande cioè in adolescenza quella roba ti rompe un po' il cazzo mentre invece sì sì no però il legame che hai con quei cartoni che hai visto da bambino magari rimane per me Re Leone tutt'oggi è una roba è difficile contenere l'emozione io ho il cd delle musiche del Re Leone bello avevi il VHS con anche dietro le quinte come facciamo vedere al computer come creavano tutte le cose ah no questo no molto bello e mi è venuta una domanda molto bella legare a questa cosa alla Disney ma ovviamente il mio cervello se l'è scordata te la faccio io allora un'altra domanda c'è un lavoro che vorresti fare e non hai ancora avuto l'occasione di fare? il paleontologo ma raccontami io volevo scavare i dinosauri avrei sempre voluto scavare i dinosauri poi in realtà all'università ho fatto lingue e comunque dopo un mese ho cannato quindi non ho preso le giuste scelte per fare il paleontologo se qualcuno mi desse l'occasione di scavare i dinosauri però lo vorrei fare non è proprio come LinkedIn cashmere però insomma se volete c'è Michele che si sta proponendo tu l'avevi questa passione dei dinosauri da piccolo? come? avevi questa passione per i dinosauri sì mi piacevano molto mi piacevano molto perché di solito a un certo punto dici non potrò avere a che fare con i dinosauri con i dinosauri e li rialeghi alla tua infanzia tu no è evidentemente un hobby assolutamente contemporaneo ho toccato due tasti ultra dolenti le follie dell'imperatore e i suoi piani ecco la domanda ma la pixarata ti piacerebbe farla se un giorno arrivesse Pixar e ti dicesse eccoci qua no no nel senso che sto in fisso mi piace un botto a me la roba della pixar io tutta quella roba me la guardo penso che so dei super genni mi piacerebbe lavorare con quei mezzi eccetera però non mi piacerebbe mettere le cose mie a servizio di quella cosa lì però però so bella bella quella roba bellissima stupenda incredibilmente bella era per capire come dire l'esercito degli Stati Uniti ti dice vieni a combattere è una potenza incredibile soldi infiniti mezzi pazzeschi per realizzare un tuo progetto però è che c'è un impianto estetico che è drammaturgico che veramente io là non saprei che cazzo farci non riuscire mai a fare una roba bella all'interno di quella gabbia lì poi che c'è lo fa lo fa molto bene però io no cioè la Pixar ti dovrebbe dire allora tu devi rimanere dentro casa non puoi mai andare in vacanza devi disegnare con tutti i mezzi che hai adesso non ti devi azzardare a chiederci nulla di più di tecnico che già tu non abbia adesso allora a quel punto lo faresti e se mi fanno dire barolacce certo e queste cose this summer from rubibia esatto zero calcare chissà poi è vero oh da ye beh speriamo di vederlo presto tra l'altro questa gente che non mi ricordo per quale progetto in cui c'erano tipo degli animali selvatici e loro c'avevano gli animali selvatici in ufficio tutto il giorno per vederli mentre disegnavano sicuramente sì beh gente che con la poterata tua ha girato tutti i più grandi ristoranti del mondo tutta quantità di piatti che nel background sì sono strani sono strani bioparco la serie c'è tutti gli animali dentro l'ufficio no io l'avevo visto riguardo ai robot a quattro zampe i designer avevano questi animali sempre a portata di mano mentre il sensitivo napoletano ti parlava tu eri in multischermo mentre eri lì è stata una chiacchiera scusa per le folie dell'imperatore se non no 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 però perché no 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 anche per la cosa dell'examen della licee veramente sono come il motorino ah veramente quindi sempre metro te ne ho due ruote non sono il mio altre cose il monopattino abbiamo detto ah no il il rollerblade il rollerblade quelle ce ne hanno quattro il bilanciere in palestra il bilanciere in palestra vedi quante belle cose che evidentemente non è esattamente il mio strumento ma guarda neanche il nostro in realtà nonostante quello che noi diciamo esatto e bene ringraziamo Zero Calcare per essere stato con noi grazie mille per questa chiacchierata crepuscolare crepuscolare vabbè ma noi siamo pure un po' così ti dico la verità nonostante quelle cose sulla costa azzurra costa smerata è una bomba ma io ci pensiamo c'è un progetto un'idea comunque sarebbe troppo bello cioè tu che vai in un luogo dove è proprio fuori della tua comfort zone e la racconti è tipo una cosa divertente è una cosa divertente che non farò mai più ma la devi fare secondo me è bellissima era un po' l'idea cioè non può rimanere solo lo shoto Brian la tua cosa divertente che non farai mai più ma adesso mi dici sta roba e penso quasi quasi magari è figo eccetera però tanto non lo posso fare ma no il motivo è che da lettori da fan tutti noi quando ci immedesimiamo nel punto di vista di qualcuno che ci piace speriamo di mettere una situazione vogliamo che vada una situazione più strana per lui dici questo andare nei posti di blocco con i mitra spianati di fronte non è abbastanza vogliamo la cosa smerata vado al festival di Venezia ogni anno con un amico mio e ogni volta che siamo andati a mangiare nelle situazioni quelle diciamo del rinfresco del festival di Venezia tutte le volte qualcuno ci ha dato un vassoio da portare via convinti che eravamo tutti le volte che siamo entrati là dentro tra l'altro ho chiamato queste gaffe il paolo il cappuccio non capisco dove si a te sia di Venezia poi però sì sarebbe magari sarebbe figo era solo un complimento mascherato da progetto editoriale sono lusingato poi ci pensiamo poi ci pensiamo bene grazie mille davvero grazie mille a voi grazie a tutti ragazzi Taira e lì Cecilia grazie Luca Carmelo ci sentiamo la prossima settimana ciao un'ultima domanda che vedete se tagliare o no perché non so la tua preparazione è sul gong è sul gong fai che sia il veloci raptor ti prego fai che sia il mio preferito fai che io non sia un brontosauro ti prego no 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 ti prego non quelli arbivori no ti prego quelli super cattivi però così è una pressione allora almeno lo stesso un veloci raptor è un t-rex grazie papà ok ciao grazie per la domanda grazie a tutti